Panna cotta variegata con mirtiglie e fragole. Come prima cosa prendo e panna cotta e la scuoto leggermente e la vuoto in una caraffa. Con un frullatore immersione andiamo ad amalgamare il prodotto. Ora andiamo ad aromatizzare una parte di panna cotta con una glassa alla fragola. Miscelliamo la glassa con la panna cotta. Ora andiamo a versarlo in un vasetto. Prendiamo la garniture ai mirtilli precedentemente frullata. L'andiamo aggiungere alla panna cotta. Miscelliamo col frullatore immersione. Ora lo vuotiamo nel vasetto. Ultimiamo l'ultimo vasetto mettendo la panna cotta naturale. Riporlo in frigo per almeno otto ore oppure in abbattitore a meno 5 gradi per 20 minuti. Il nostro dolce è pronto. Grazie per la visione! Grazie per la visione!